Un viaggio lunghissimo, quasi 2000 chilometri percorsi in mare dalla Puglia alla Turchia per deporre le uova e la storia di una delle tartarughe caretta caretta liberate l'11 giugno 2023 alla prima cala di Molfetta dal centro recupero tartarughe marine WWF Molfettese. Pochi giorni fa, praticamente ad un anno da quella data, un gruppo di ricercatori turchi ha sorpreso l'esemplare mentre deponeva le uova sulla spiaggia di Cirali. La tartaruga è stata riconosciuta tramite le targhette presenti sulle pinne anteriori. Un viaggio straordinario cominciato da Molfetta e proseguito attraverso i mari del Salento, quelli della Grecia, sino ad arrivare in Turchia sulla spiaggia di Cirali dove la caretta caretta ha deposto i suoi futuri piccoli. La tartaruga, dopo la deposizione, ha ripreso il suo lungo viaggio, l'esempio più bello della natura capace di sorprendere e che sottolinea ancora di più il lavoro prezioso del centro recupero tartarughe di Molfetta, che quest'anno compie 20 anni di attività e si avvicina anche al traguardo delle 10.000 tartarughe recuperate e poi lasciate in mare, libere di intraprendere i loro lunghissimi viaggi.